Grazie a Dio, dopo l'esperienza dei battesimi, una delle cose che poi chi fa il battesimo desidera intensamente, qual è? La Santa Cena, la Cena del Signore, è domenica, grazie a Dio, avremo questa festa, questa gioia, questa esperienza, anche per i cari che per la prima volta faranno questo, ma come sempre è necessario prima di qualunque cosa che noi facciamo di avere sempre un insegnamento della parola di Dio per sapere quello che facciamo e per dargli il giusto valore affinché non sia una cosa così sminuita oppure diventa come un'abitudine, questo è uno dei motivi per cui noi scegliamo di non fare la Santa Cena tutte le domeniche come alcune confessioni fanno, forse noi facciamo in modo sbagliato, sbagliamo al contrario, nel senso la facciamo un po' più raramente, ma forse su questo possiamo migliorare, se ci impegniamo miglioriamo sicuramente anche su questo, anche perché poi la Santa Cena, come vediamo stasera, riflette un po' delle situazioni, delle condizioni, un po' la salute della comunità, per cui è sempre da fare con la giusta condizione. La Santa Cena, se possiamo così già capire il periodo in cui è stata istituita, vi ricordate qual era il periodo? Quale festa si celebrava? Si celebrava la Pasqua e una delle confusioni più grandi che si sono diffuse proprio per questa concomitanza è stato proprio il fatto che è stata scambiata per la Pasqua e per la Pasqua cristiana, la Pasqua non è una festa cristiana, la Pasqua è una festa ebraica, la Pasqua è una festa ebraica che nasce, lo sapete, nell'Esodo quando c'è stata la liberazione dall'Egitto e quindi è stata proprio istituita in Egitto, in Egitto e in quell'occasione si sa, si istituì la Pasqua con questo sacrificio dell'agnello, dell'erba mare, tutto il tipo di Cristo e poi il sangue che era sugli stipidi delle porte che significava il sacrificio e la parola Pasqua significava proprio passare oltre, quindi quando passava l'angelo sterminatore che uccideva i primogeniti d'Egitto, col sangue dove vedeva il sangue lui passava oltre e la parola Pasqua significa proprio passare oltre, quindi non è che ci sia qualcosa in comune tra la Pasqua e la Cena del Signore, se non il fatto che è stata istituita da Gesù nel giorno di Pasqua, nel periodo di Pasqua, non nel giorno, nel periodo di Pasqua, tutto qui è capitato il periodo ma non c'è niente in comune, ecco perché una delle cose che di più si sta diffondendo nelle chiese cristiane ultimamente è tutto questo ritorno al giudaismo, ai riti, ultimamente sono vedendo più dei fratelli che si vestono proprio da antichi sacerdoti, aronne, stanno sostituendo gli strumenti, stanno mettendo lo sciofate, questo corno ebraico, si sta sostituendo un po' tutto nel rituale e dove, ripeto, tante volte è sconcertante trovare che noi osserviamo tradizioni, come molte volte abbiamo parlato del velo ad esempio, però invece vediamo un ritorno alle feste ebraiche, un ritorno al rituale ebraico, addirittura al vestimento ebraico e tutto questo è quasi, anzi è giudaizzare, giudaizzare, quindi ritornare a determinate cose. Ora sotto l'aspetto culturale questo è interessante e sarebbe anche buono partecipare qualche volta dove fanno queste cose ma sotto l'aspetto culturale per dirà così si faceva, però adesso si fa così, quindi capire che ci sono delle differenze. Allora è buono che prima di bere il vino e di mangiare il pane noi comprendiamo che cosa facciamo e anche ce lo ricordiamo ogni volta che ne abbiamo opportunità. Quindi come vedete la scena del signore, ripetiamo, non ha niente a che fare con la Pasqua ebraica. Matteo 26, versi da 26 a 28, se qualcuno mi aiuta perché non ho molta voce stasera. C'è qualche microfono? Ah, c'è, grazie, vai. Mentre mangiavano Gesù prese del pane, dopo aver detto la benedizione lo ruppe e lo diede ai suoi discepoli dicendo prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi preso un calice e rese grazie lo diede dicendo, bevetene tutti perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Da queste parole sono nate tante interpretazioni, tanti riti, tante polemiche e anche tante divisioni su quello che troviamo nelle parole che il signore dice in questa occasione. Quindi questa istituzione della scena del signore viene fatta durante questi giorni che precedevano la Pasqua, era il vero e il dì per esattezza, per cui c'è stata questa ultima cena e c'è questa benedizione che il signore fa, vedete Gesù benedice il pane, poi lo rompe e dice questo è il mio corpo, è su questo, su questo, ci sono dottrine, specialmente la dottrina cattolica, ne ha fatto un cavallo di battaglia su questa cosa, questo è il mio corpo, però vedete Gesù ha detto pure io sono la via, però nessuno pensa che Gesù è una strada provinciale, è un'autostrada, no? Oppure ha detto io sono la porta, nessuno pensa che Gesù è una porta fisica, e qui invece io sono il pane, questo è il mio corpo, sono il pane e il pane si pensa in questo modo. Fra poco vedremo, e poi lui parla del sangue, quando hanno mangiato e bevuto i discepoli, loro potevano capire che cosa stava dicendo Gesù. Noi possiamo intendere adesso, perché quando prendiamo il bicchierino noi vediamo il vino e comprendiamo cos'è il sangue, ma noi non sapevano che da lì, al giorno dopo, sarebbe successo quello che poi è avvenuto, il sacrificio di Gesù, la crucifissione, tutto. Quindi quello che vediamo è che succede tutto questo. Andando avanti allora possiamo capire questo, su quelle parole la Chiesa tradizionale ha pensato in un certo modo uno dei dogmi che sono della Chiesa cattolica è proprio la transustanziazione che dice questo che al momento in cui il prete dice questo è, benedisce, dice questo è il mio corpo, in quel momento anche se il pane ha la forma di pane non è più pane ma è il corpo di Gesù. E anche se il vino ha sempre la forma del vino non è più vino ma è il sangue di Gesù. E in questo modo, mangiando questo pane, bevendo questo sangue, uno si nutre e si ciba del corpo di Gesù. E questo per loro è un mezzo di santificazione, per cui Gesù viene dentro di me e sappiamo che poi le cose non è che siano proprio così, però vedete Gesù, Giovanni 6,48 dice io sono del pane della vita, i vostri padri anche hanno mangiato la pane del deserto, però nonostante hanno mangiato sono molti lo stesso. Questo è il pane che scende dal cielo finché chi ne mangia non muore. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo, se uno mangia di questo panno vivere in eterno, il pane che io darò è la mia carne che darò per la vita del mondo, è la profezia di quello che sarebbe stato il suo sacrificio. Quindi questa prima teoria chiamata transustanziazione è quello che dice che il pane e il vino non sono più tali, ma al momento della benedizione essi diventano letteralmente corpo e sangue di Gesù. Quindi questo è quello che avviene in tutto questo. Quindi spariscono le sostanze ma rimangono le apparenze. Poi c'è la consustanziazione e qui è un'altra teoria, trovato spazio anche in ambienti protestanti, diciamo classici, e in questo caso si dice che al momento in cui si benedice il pane e il vino si aggiungono al pane e al vino anche il corpo e il sangue di Gesù. Quindi con il pane e il vino c'è, ecco perché, mentre dall'altro c'è trans, nel senso che si trasforma, qua invece con, accompagna. Quindi c'è l'accompagnamento, oltre al pane e al vino si accompagna il corpo e il sangue di Gesù. E poi c'è la dottrina dell'imparazione, si chiama, o della presenza spirituale del Signore. E questa teoria insegna che la Santa Cena è un mezzo della grazia di Dio. Gli emblemi del pane e del vino rimangono tali anche dopo la consagrazione, sono un'immagine del corpo e del sangue del Signore Gesù Cristo, il quale comunque è realmente presente, ma spiritualmente. Questo vuol dire che Gesù è presente col suo spirito negli elementi. Il pane e il vino non si trasformano, non agiscono da soli, meccanicamente come insegna la teoria che abbiamo detto prima, ma sono mezzi di grazia che assicurano preziose benedizioni a coloro che partecipano alla Santa Cena con la giusta disposizione d'animo. Qui ci sono verità e forzature. Nel senso che sicuramente è un momento di alta tensione spirituale, un momento di intensa emotività, ma non è che quello poi porta la salvezza, che la comunione col Signore è una cosa spirituale. Noi non abbiamo comunione col Signore soltanto per mezzo dei simboli, anche per mezzo dei simboli, ma qui sembra che invece sono i simboli che danno la comunione. Poi c'è ancora una quarta teoria che la Santa Cena è soltanto un ricordo e basta. E quindi là si sminuisce. Quindi come vedete o si enfatizza al massimo o si sminuisce e quelle parole di Gesù sono diventate occasioni di polemiche, di visioni, insomma di teologie così in conflitto fra di loro. Ognuno dice un po' il suo. Invece noi andiamo a vedere un po' alle origini, cioè quando è stato stabilito il periodo. Questa è la Pasqua, ma vi ripeto, la Pasqua non ha niente a che fare se non per il periodo nel quale è stata istituita la cena del Signore. Quindi queste erano delle cose importanti che comunque hanno dei riflessi nella Santa Cena, delle similitudini, ma non sono la stessa cosa. Cosa avveniva quando si celebrava la Pasqua? Il rito aveva inizio con una preghiera pronunciata dal capofamiglia che faceva poi passare il primo calice, per cui non era soltanto un calice che passava a Pasqua e quindi quello che si fa nelle chiese, anche questa occasione di divisione, calice, bicchierini, un calice, due calici. Anche questo è diventato un problema dove spostandosi dal significato siamo scaduti in quelle che poi sono le rappresentazioni simboliche. Ma non abbiamo un modello stabilito, perché quando è stato stabilito la Santa Cena si stava celebriando la Pasqua, per cui non è che c'è proprio un modello sicuro, così si fa, così si fa. Ci sono ad esempio fratelli che sono scandalizzati rispetto al fatto dell'uso dei bicchierini, rispetto, rispetto. E secondo me dove c'è possibilità di poter fare una Santa Cena con un calice dove sono pochi fratelli, intimi, si può anche fare, si può fare, si deve fare. Ma facciamo un esempio di chiese di migliaia di persone, come si fa a bere tutti quanti nello stesso calice? E soprattutto come si fa a bere tutti quanti alla stessa bottiglia, se una bottiglia non basta. Quindi un'altra bottiglia, un'altra bottiglia, come fa a sapere che è lo stesso vino? E se è lo stesso vino, è per essere la stessa botte, la stessa botte è per essere la stessa vigna. Insomma, bisogna per risalire, per essere la stessa cosa, bisogna fare un altro che doc, bisogna fare proprio una ricerca araldica della bottiglia di vino, da dove viene, e che cosa è successo, dalla vigna fino a quello che avviene dopo. È impossibile, quindi non perdiamoci nei dettagli, ma guardiamo il significato, perché ripeto, per i dettagli sono chiese divise, nelle stesse chiese alcuni dicono così non va bene, comprendiamo il senso e comprendiamo anche il buon senso, che dove non è possibile, bisogna fare in un certo modo, senza annullare, i simboli che sono il pane e il vino. Quelli non si possono sostituire. Allora, ritornando a quello che avveniva invece durante la Pasqua, vedete, Luca 22, 17, Gesù prese un calice, rese grazie e disse prendete questo e distribuitelo fra di voi. Quindi dal calice poi c'erano le coppe, quindi c'era il calice, potremmo chiamarlo oggi la bottiglia, e poi c'erano le coppe che erano i bicchieri, per cui ogni familiare versava nella propria coppa, poi passavano l'erba amara, simbolo della sofferenza d'Egitto, che venivano mangiati dopo essere state intinte in questa salsa particolare, una specie di ketchup dell'epoca, si chiamava caroset, e quindi c'erano noci, mandalo, dattari e aceto. Questa era la salsa che componeva, ripeto, se dovessimo fare la santa cina in quel modo ci vorrebbero i frarielli, erba amare, salsicce no, ma ci vorrebbero poi queste salse particolari e dovremmo andare in un'osservanza che non è biblica. Invece quello che vediamo è che questa celebrazione è una celebrazione molto diffusa e nei primi tempi era addirittura quotidiana, per cui tutti i giorni la Chiesa si riuniva avendo come scopo quello di ascoltare la parola di Dio, di avere comunione fraterna, di pregare assieme e di rompere il pane nelle case. Addirittura quando non c'erano le Chiese e non si poteva nel Tempio fare questo, i cristiani si riunivano nelle case e in ogni casa si partecipava a questa cena del Signore, rompevano il pane assieme e celebravano così, anche con delle agape, prendevano insieme il loro cibo con gioia e semplicità di cuore. Quello che poi cominciamo a capire è che la Santa Cena ha a che fare però con l'unità del corpo, con l'unità della Chiesa e qui il discorso comincia a diventare un po' più relazionale, spirituale, morale e ha a che fare con la salute di una comunità. Ecco perché dicevo poco fa che molte volte la celebrazione o anche la frequenza è condizionata un po' dalla salute della comunità perché la Santa Cena non è una cosa magica come stiamo dicendo, non è una cosa che insomma se fai quello veramente mangi il corpo di Gesù, però comunque ci sono delle cose che avvengono durante questa celebrazione, ci sono dei fatti spirituali che avvengono nel bene e nel male. Ma come uno fa la Santa Cena può succedere qualcosa di male? Nel bene e nel male avvengono delle situazioni che adesso vedremo nella parola del Signore per cui leggiamo Prima Quartinici 11 dal verso 17 Nel darvi queste istruzioni non vi lodo del fatto che vi radunate non per il meglio ma per il peggio poiché prima di tutto sento che quando vi riunite in assemblea ci sono divisioni tra voi e in parte lo credo. Infatti è necessario che ci siano tra voi anche delle divisioni perché quelli che sono approvati siano riconosciuti tali. Fermiamoci un attimo e consideriamo perché i passi sono tanti e poi ci possiamo perdere nel riassunto finale. La prima cosa che Paolo dice ai Corinti ad esempio, sta parlando della Santa Cena e dice innanzitutto la condizione della Chiesa quindi una Chiesa che si riunisce non in condizione è una Chiesa a dischio credenti che non si riuniscono nella giusta condizione sono credenti a dischio. Qual è il problema evidenziato in un modo immediato da questa lettera della Chiesa di Corinto? Che quando loro si riunivano si riunivano? Per il peggio per il peggio che cosa attestava questo? Che nella Chiesa di Corinto che cosa c'erano? Divisioni. L'Apostolo Paolo che cosa dice su questo? Verso 19 Infatti è necessario che ci siano tra voi anche delle divisioni perché quelli che sono approvati siano riconosciuti tali in mezzo a voi. Questa è una cosa strana pericolosa da trattare con molto equilibrio ma quello che ci fa capire la scrittura è che queste divisioni erano addirittura necessarie. Ma come è possibile? La divisione è un male non è un bene. Ma qual è il motivo di questa manifestata divisione? Qual è il motivo? riconosce quelli che sono approvati riconosce quelli che sono approvati nel senso vengono fuori anche nel momento della Santa Cena e della riunione solenne viene fuori tante volte la condizione del cuore e la condizione anche di relazione viene fuori al momento spirituale non viene fuori al momento se noi mangiamo qualcosa assieme non viene fuori se ci salutiamo se scherziamo ma viene fuori nel momento spirituale il momento spirituale è un momento significativo che riflette quello che è la condizione della nostra spiritualità proseguiamo nella lettura quando poi vi riunite insieme quello che fate non è mangiare la cena del Signore qui parliamo di un'altra cosa l'illusione l'illusione perché questi erano convinti che loro stavano mangiando la cena del Signore l'Apostolo Paolo dice guardate che quello che state facendo non è quindi come vediamo non sono i simboli ma è la condizione non è il fatto che i simboli procurano ma è la condizione nella quale noi andiamo a celebrare la cena del Signore se effettivamente nel nostro cuore c'è questa disponibilità quindi l'Apostolo Paolo con questo verso disillude e spezza la convinzione vuoi mangiare il pane e il vino ma il fatto che mangiare il pane e il vino non significa che state celebrando la cena del Signore dal verso 21 vediamo che poi c'è uno dei problemi anche sociali perché al pasto comune ciascuno prende prima la propria cena e mentre uno ha fame l'altro è ubriaco si parla di disprezzo non avete forse le vostre case per mangiare e bere o disprezzate voi la Chiesa di Dio e omiliate quelli che non hanno nulla che vi dirò devo lodarvi in questo non vi lodo e questa evidente spaccatura sociale sociale culturale perché la città di Corinto secondo alcuni studiosi era composta la città di Corinto era una città numerosa una metropoli si parla di circa 800.000 persone e aveva uno spaccato significativo nel senso che c'erano molti commercianti ricchi perché Corinto si trovava proprio su un porto l'istmo di Corinto era famosa per i giochi che venivano organizzare le Olimpiadi di Corinto e venivano navi da tutto il mondo per cui c'erano molti scaricatori di navi e questi scaricatori di navi insomma erano quelli lì che lavoravano duramente culturalmente erano un poco più grezzi non avevano possibilità economiche ma i ricchi invece avevano questa possibilità e come un po' e la società così era anche la Chiesa in genere la Chiesa a volte riflette la condizione della società tornadessa anche la Chiesa era composta da un certo numero di persone ricche che non erano la maggioranza perché poi l'Apostolo Paolo dirà guardate in mezzo a voi non ci sono molti saggi molti ricchi molti nobili ma Dio ha preso le cose ignobili per svergognare le cose che credono di essere quindi la città di Corinto aveva una rappresentanza interna di uomini potenti i quali disprezzavano quelli che poi erano persone più povere anche se erano fratelli e di conseguenza questi andavano prima perché loro non avevano orari di lavoro ma lo scaricatore di porto se non finiva di scaricare la nave non poteva andare in chiesa e quindi quando arrivavano trovavano gli altri che erano già ubriachi che avevano mangiato e disprezzavano quelli che arrivavano questo significativo per quanto riguarda le differenze sociali e culturali si allarga tutto quello che può essere differenza nella chiesa quello che può essere differenza razziale ecco perché noi ci freggiamo ci onoriamo del fatto che la nostra chiesa è composta da tante nazioni e questa è una cosa che noi dobbiamo considerare una benedizione è una benedizione poter cantare in altre lingue è stata una benedizione l'ultimo dell'anno avere 13 nazioni che si sono alzate in piedi per dare gloria al Signore qui in questo luogo e questo ci deve aiutare a capire sempre nella nostra vita di non fare mai problemi razziali mai problemi razziali e neanche problemi culturali sociali di ricchi poveri intelligenti laureati persone che hanno la terza elementare o la prima elementare quindi bisogna stare attenti a tutto questo perché questo è quello che provoca la divisione nella chiesa di Corinto e che illudie le persone che stanno mangiando la sardacena in realtà Paolo dice voi non state mangiando la sardacena ma state disprezzando la chiesa quindi quel momento invece di essere un momento di benedizione diventa un momento piuttosto delicato continuiamo a leggere allora dove ci eravamo fermati verso 23 allora poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso cioè che il Signor Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse questo è il mio corpo che è dato per voi fate questo in memoria di me nello stesso modo dopo aver cenato prese anche il calice dicendo questo è il calice questo calice è il nuovo patto nel mio sangue fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me allora quello che vedete qui in queste parole Gesù parla di qualcosa di nuovo parla di un patto come lo definisce questo patto nuovo patto nuovo patto ricordatevi che lui sta celebrando questo in un altro patto la Pasqua era comunque un patto nel senso che del sangue che il Signore aveva preservato e mentre sta celebrando la Pasqua dice c'è un nuovo patto e soprattutto espresso nel calice poi dal verso 26 a questo punto dopo aver spiegato quello che è il vecchio patto il nuovo patto diciamo anche lo scontro tra la vecchia e la nuova dispensazione fra la grazia e la legge a un certo punto dal verso 26 dice però ogni volta che mangiate questo pane bevete da questo calice voi annunciate la morte del Signore finché egli venga e fin qui c'è la commemorazione c'è il ricordo c'è l'istituzione poi ancora una volta vedete riprende la condizione per enfatizzare che la cosa più importante non è il fatto in se stesso simbolico o per quelli che sono i messaggi della rappresentanza anche se questi sono sicuramente hanno la loro importanza ma la condizione per cui ancora una volta dal verso 27 si parla di condizione il verso 27 cosa dice perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore allora quello che vediamo qui comprendiamo un particolare che alla cena del Signore non bisogna accostarsi in un modo indegno ma chi è che è degno perché su questo molte volte si generalizza e la generalizzazione del peccato a volte porta una giustificazione del peccato è pericoloso generalizzare è vero che nessuno è perfetto è vero che nessuno ha le ali ma è altresì vero che noi dobbiamo stare attenti e capire che senza santificazione a Dio non lo vedrà nessuno per cui noi dobbiamo proseguire in un cammino in un impegno dove la nostra vita deve attestare un progresso spirituale se noi ci accostiamo alla Santa Cena col peccato e soprattutto col peccato di divisione questa è una cosa che procura delle conseguenze alla nostra vita e tante volte si parla a sproposito di risveglio e si intende risveglio solo come momento miracolistico in realtà il risveglio quando poi si manifesta è anche un risveglio moltale il risveglio moltale sì durante i risvegli delle persone sono state proprio colpite duramente Anania e Saffire sono gli esempi classici di questa espressione quindi quello che vediamo l'Apostolo Paolo dibadisce e enfatizza di nuovo la condizione dice guarda che se voi siete indegni e vi accostate alla scena del Signore di voi siete indegni verso il corpo e il sangue continuiamo a leggere ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice che cosa è richiesto anche qui ricordate quando stavamo nella chiesa nominale facevamo una pratica che si chiamava esame bravo te lo ricordo ancora fai ancora no l'esame di coscienza nel senso che cosa è l'esame di coscienza diceva in poche parole fai un po' di introspezione vedi un po' nella tua vita cosa va cosa non va passati la mano per la coscienza e questo è una cosa che rimane nel senso innanzitutto perché è importante questo esame perché ci toglie l'attenzione dagli altri e mette l'attenzione su noi stessi non possiamo accostarci alla santa cena senza giudicare noi stessi quindi il giudicare noi stessi tante volte significa non giudicare gli altri ma guardare nella nostra vita la condizione personale dove stiamo sbagliando e soprattutto che intenzioni abbiamo molte persone che cosa fanno quando leggono si passi questa cosa fa paura domenica me ne vado alla piscina o me ne vado alla partita vado in un altro poi non vengo in chiesa così evito il problema voi pensate che veramente si evita il problema il problema non si evita ma noi dobbiamo metterci a posto non possiamo evitare le nostre responsabilità ma dobbiamo metterci a posto davanti a queste parole qui andiamo un po' nel pesante fra poco allora andiamo a vedere il verso 29 che cosa dice dopo l'esame chi mangia e beve addirittura mangia e beve un giudizio contro se stesso altro che chi mangia questo pane a vita eterna ma si beve e si mangia un giudizio contro se stesso come vedete la condizione la condizione la condizione che cosa è un po' la condizione la condizione e perché si dovrebbe fare tutti i giorni la condizione si è avuto tutti i giorni alcuni si preparano solo per la scena del signore e dicono vabbè la prossima quando facciamo per un paio di mesi ho tempo di rilassarmi no dovremo sempre stare attenti a queste cose ora guardate dal verso 30 qual è l'effetto del risveglio della presenza forte di Dio nella chiesa e più andremo avanti a cercare il signore e più noi potremmo vedere queste potremmo vedere tante cose meravigliose ma potremmo anche vedere dei fatti terribili qual è il fatto terribile verso 30 leggi per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono guardate la statistica quante persone sono inferme e malate e quando ne muoiono da queste parole sembra che la chiesa di Corinto è una chiesa molto numerosa ma ogni volta che facevano la santa cena in qualche modo si decimava fra malattie e molte questa chiesa veniva colpita duramente dal giudizio di Dio e allora in un in un momento particolare vedete la chiesa di Corinto è anche la chiesa enfatizzata per un altro motivo ad esempio qual è la cosa più famosa della chiesa di Corinto che avveriva i doni i doni è un fenomeno carismatico quindi c'è un movimento dello spirito intenso particolare in mezzo a tanti problemi etiologici morali insomma di divisione e tante cose ci stava un particolare movimento dello spirito di Dio per cui c'erano dei doni così enfatizzati ma proprio dove ci sta il movimento dello spirito bisogna ancora di più stare attenti quindi questa chiesa era decimata da malattie e da molte precoce perché? perché ci stava questo approccio alla Santa Cena in un modo che non andava bene quale sarebbe stata la soluzione? verso 31 ora se esaminiamo noi stessi non saremo giudicati ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo qui c'è una una luce per quanto riguarda la disciplina di Dio non tutte le malattie colpivano in un modo mortale ma qui dice per esempio se noi ci esaminassimo noi non saremmo giudicati però dice guardate che anche nel giudizio c'è comunque un'azione di misericordia di Dio perché quel giudizio che cosa procura? il giudizio che cosa significa il giudizio? siamo e la correzione se noi ascoltassimo e obbedissimo alla parola di Dio sarebbe la cosa perfetta ma siccome non abbiamo questa inclinazione così spontanea a volte Dio è costretto a disciplinare la vita nostra e uno degli effetti post Santa Cena fatto in modo indegno è quella che può essere una situazione di disciplina da parte di Dio quindi Dio conosce la condizione del nostro cuore sa se siamo impenitenti se siamo oppure sa se questo errore della nostra vita non è un errore così particolarmente che richiede la sentenza drastica e allora Dio ci giudica è quello che l'Apostolo Paolo dirà in un'altra occasione di aver dato delle persone in mano a Satana affinché il loro corpo venisse devastato ma la loro anima venisse salvata per la loro salvezza quindi la stessa la stessa punizione di Isabel ricordate Isabel questa falsa profedessa Dio disse io l'ho gettata sul letto di dolore per quale motivo affinché si ravveda quindi in questo caso vediamo che l'intervento di Dio è per portarci ad avverimento ma se ci ravvediamo prima ci conviene evitiamo la malattia e ci evitiamo il problema quindi esaminiamo noi stessi per vedere qual è la condizione della nostra vita dunque fratelli miei quando vi riunite per mangiare aspettatevi gli uni gli altri se qualcuno ha fame mangi a casa sua perché vi riuniate per attirare su di voi un giudizio scusate perché non vi riuniate per attirarvi su di voi un giudizio quanto alle altre cose le regolerò quando verrò quindi qui l'apostolo Paolo sta dicendo queste sono le cose da fare per non attirare un giudizio sulla sulla nostra vita questa è una cosa particolare speciale che ha a che fare con la cena del Signore perché questa cosa ci riguarda fra poco vedremo ancora noi dobbiamo prendere una posizione spirituale e morale anche all'interno della comunità perché come vedete ci sono persone che nella comunità possono disprezzare possono creare difficoltà e tutto questo procura un dolore procura delle situazioni di estremo pericolo fino al punto che abbiamo visto si tratta anche di vita fisica messa in discussione perciò l'abbiamo visto le conseguenze sono terribili e poi quello che invece è la condizione è che bisogna che la Chiesa sia una Chiesa unita si lavori per l'unità però qui c'è una una precisazione da fare l'apostolo Paolo dice o meglio abbiamo ascoltato prima è inevitabile che ci sono poi delle divisioni allora Paolo dobbiamo essere uniti o dobbiamo essere divisi insomma mettiti d'accordo facci capire in realtà non è Paolo che scrive ma lo Spirito di Dio usando Paolo ci dà questi consigli e dice alla nostra vita che noi possiamo lavorare per l'unità o possiamo lavorare per la divisione ci dice pure che noi siamo chiamati a delle scelte nel nostro cammino perché se noi ci ostiniamo a lavorare contro l'unità noi paghiamo delle conseguenze ma poi nasce il secondo problema che è il problema relazionale come mi comporto io con chi crea divisione sono fratelli non sono fratelli che cosa sono allora noi sappiamo che il giudizio finale è quello di Dio nessuno può dire se uno oggi può stare meglio di un altro può finire cioè che quello si svia e l'altro si salva non sappiamo il giudizio definitivo però quello che sappiamo è il comportamento che noi dobbiamo avere anche specialmente davanti a questi simboli che Dio ci dà allora che cosa che cosa vediamo vediamo ad esempio secondo De Sanonicesi 3.6 una situazione alla quale noi siamo chiamati a partecipare se no noi ci troviamo a lavorare se vogliamo che la comunità sia la comunità unita bisogna riprendere le opere le tenebre e bisogna camminare in un certo modo secondo De Sanonicesi 3.6 fratelli vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi allora la Chiesa ha un insegnamento un'etica una visione una dottrina la dottrina stabilita quando a un certo punto sono persone che vanno contro quello che è l'insegnamento della Chiesa quella che è la dottrina della Chiesa quella che è l'etica della Chiesa i credenti come si devono comportare verso un fratello qui non dice un iniquo qui lo definisce un fratello ma come bisogna comportarsi con un fratello che va contro l'insegnamento che abbiamo ricevuto bisogna fare un passo indietro e qui ritorniamo al discorso di prima divisione e unità è un fatto pericoloso richiede equilibrio e maturità non siamo chiamati ad essere giudici dei fratelli però nemmeno siamo chiamati a partecipare alle opere delle tenebre siamo chiamati a valutare le nostre compagnie la Bibbia dice non vi ingannate le cattive compagnie che rompono i buoni costumi ora qualcuno a volte dice che ci sono alcuni fratelli che hanno il peccato della critica questo peccato non avrebbe motivo di esistere se non ci fosse qualcuno che è il peccato dell'ascoltare la critica perché se uno è critico e nessuno l'ascolta non c'è nessun problema la critica si fonde si diffonde dove ci sta l'orecchio il proverbio dice le parole del maldicendo sono una ghiottoneria come dei babà e ognuno se li mangia perché sono parole che entri lo fanno piacere allora bisogna essere attenti a questo questo significa ritiratevi ora tu puoi fare del bene al starello che è il problema se tu fai un passo indietro se tu fai un passo avanti gli fai del male e ti fai del male e di conseguenza si crea poi del male ecco perché l'apostolo Paolo parla in questo modo domani 16 17 18 che cosa dice ora vi esorto fratelli a tenere d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto allontanatevi da loro costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo ma il proprio ventre e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici qui vediamo ancora quelli che provocano divisioni quelli che provocano scandali contro che cosa in contrasto all'insegnamento che avete ricevuto anche qui cosa è scritto qual è il comportamento che noi dobbiamo avere allontanatevi molti tante volte hanno difficoltà a capire questo come è possibile noi siamo cristiani ci dobbiamo allontanare noi ci dobbiamo allontanare dal male se questa cosa è una cosa perpetuata ripeto finché possiamo dare un buon consiglio a qualcuno che sta passando un momento difficile e dice qualche parola fuori posto fratello così non si fa Signore ti aiuti preghiamo questo va bene però quando si perpetua si perpetua si va avanti e si va avanti la bisogna fare una scelta nella nostra vita ecco perché poi diventa inevitabile la divisione prima Quarenzi 511 ma quel che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi chiamandosi fratello sia un fornicatore un avaro un idolatra un oltraggiatore un ubriacone un ladro con quelli non dovete neppure mangiare allora anche qui vedete ci sono ferme direzioni della parola del Signore quando delle persone faccio un esempio sono in convivenza persone che convivono e frequentano la Chiesa è difficile molte volte a volte quando uno dice qualcosa il pastore è cattivo vediamo un po' chi deve mangiare nelle agape vediamo un poco perché questo perché la parola di Dio mette questi limiti dice se una persona sta nella convivenza com'è una persona che convive come si chiama allora dici col fornicatore noi che cosa dobbiamo fare non dobbiamo mangiare è la stessa cosa l'idolato l'ubriacone oltraggiatore quindi quando noi non vediamo questo però qual è la cosa che chi fa questo come si chiama chiamandosi fratello ho chiamato fratello perché poi ci sono anche dei fratelli che chiamano fratello a tutti quanti basta che uno viene in Chiesa una volta due volte siamo tutti quanti fratelli ma Dio sa chi sono i fratelli Dio sa il giudizio sulla nostra vita Dio sa queste cose ecco perché vedete la Santa Cena diventa una cosa che richiede la condizione insomma sarebbe molto banale spiegare un attimino significato pane, vini, simboli e tutte queste cose ma che cosa succede se noi andiamo a prendere il pane e il vino e noi possiamo vivere questa situazione quindi non è per cattiveria non è per pregiudizio non è perché noi siamo i santissimi ma se vediamo che persone vogliono vivere in questa condizione e si chiamano fratelli uno deve fare una decisione deve fare una decisione finché si viene in Chiesa bene ma poi quando si tratta di andare oltre di mangiare e bere significa avere comunione mangiare e bere significa condividere e allora ecco eccezionalmente per evangelizzare una cosa si fa eccezionalmente per una testimonianza una cosa si fa ma sia una cosa eccezionale come a volte può capitare che noi eccezionalmente possiamo accettare una situazione del genere ma poi il fratello se si sa veramente un fratello o una sorella sa veramente il sorello deve fare una scelta per dire io non posso vivere in condizione di fornicazione non posso vivere in condizione di essere ubriagone o altre cose che troviamo nella parola di Dio quindi anche qui vediamo che noi siamo chiamati alla partecipazione queste cose uno dei problemi che a volte noi pensiamo vedete a volte noi abbiamo un atteggiamento un po' a convenienza per quanto riguarda il ministerio di tutti i credenti quando si tratta ad esempio di fare delle cose siamo tutti quanti sacerdoti poi se si tratta invece di prendere l'iniziativa è il pastore che deve fare questa cosa e non è buono perché se no che cosa succede che il pastore si ritira da una persona e gli altri invece ma come il pastore non amore perché guarda si ritira da una persona e il pastore non amore ma qui dice l'apostolo Paolo il pastore non si mischi non si il pastore si ritiri dice tutti quanti noi per cui se siamo parte di un sacerdozio totale noi dobbiamo anche essere persone che applicano questo ripeto non con col giudizio e col pregiudizio nel cuore ma con il modo giusto dobbiamo far capire le persone guarda che questa situazione non va bene se torna il Signore e tu sei in convivenza che fine fai quindi stare attenti a tutto questo ma anche se uno muore e se ne va di là anche in Tito 3.10 anche qui vediamo che noi abbiamo quando una persona anche prende delle convinzioni settarie anche lì uno come insomma come fratello come responsabile come persona più matura noi dobbiamo dire al fratello guarda che sai se prendete delle convinzioni che non sono buone ma cosa troviamo nella scrittura ammonisci l'uomo settario una volta e anche due poi evitalo sapendo che un tal uomo è traviato e pecca condannandosi da sé quindi anche qui vedete Paolo sta parlando con un pastore con Tito e gli dice guarda quando tu trovi persone che sono così convinti e sono settari tu una volta due volte ammonisci poi dopo che cosa devi fare lo devi evitare anche questo nell'ambiente buonista a volte può sembrare una cosa scioccante dire non c'è amore ma quando si vedono determinate convinzioni davanti alle quali la persona non retrocede allora lì bisogna poi dire va beh insomma ognuno può pensare come vuole andiamo a vedere allora se noi vogliamo partecipare all'unità della Chiesa e vogliamo la condizione quindi queste cose che abbiamo detto dobbiamo tutti quanti fare uno sforzo di umiltà affinché noi le mettiamo in pratica ritornando allora a questo punto alla Santa Cena vediamo che in Prima Corinti 10 verso 14 dice perciò cari miei fuggiteli d'Oladria io parlo come a persone intelligenti giudicate voi quello che dico il calice della benedizione che noi benediciamo non è egli la comunione col sangue di Cristo quindi quando noi celebramo la cena del Signore noi siamo in comunione col sangue di Gesù vedete non è che ci mangiamo il sangue ma siamo in comunione col sacrificio che Gesù ha fatto quindi la Santa Cena è un momento di intensa comunione noi dobbiamo stare sempre in comunione col Signore ma quel momento è un momento di intensa comunione dove noi apprezziamo realizziamo il sacrificio di Gesù e quindi questo è uno dei significati la comunione con Cristo la seconda cosa che vediamo è la comunione con la Chiesa ritornando a tutto quello che è stato detto fino a poco fa quindi significa che se io esamino me stesso e dico adesso io chi sono? Sono un fornicatore? Sono uno che frequenta i fornicatori? Io chi sono? Sono una persona che sono un disordinato? Una persona ribelle? Chi sono? Una persona che frequenta i ribelli? Che cosa faccio? Che cosa faccio? Quindi quello è l'esame di noi stessi per dire adesso io che cosa voglio essere nella condizione in cui sono non va bene oppure posso anche andare a prendere la Santa Cena la prendo però poi abbiamo ascoltato prima c'è un giudizio sulla nostra vita di cui ci dobbiamo preoccupare a priori perché il Signore ci ha avvelte prima se invece noi facciamo tutto questo e ci sottomettiamo alla parola del Signore vogliamo con tutto il cuore cambiare la nostra condizione e vivere in accordo alla Chiesa in accordo alla parola del Signore allora noi quando celebramo la Santa Cena siamo in comunione con la Chiesa il calice della benedizione che noi benediciamo è la comunione col sangue di Cristo il pane che noi rompiamo che cos'è invece la comunione col corpo di Cristo siccome vi è un unico pane noi che siamo molti siamo un corpo unico perché partecipiamo a quell'unico pane in questo caso noi simboleggiamo prendiamo un pezzo di pane che è uno solo da quel pezzo di pane viene distribuito è la stessa sostanza per cui noi diventiamo uno però non è il pane che ci fa uno è la condizione di cui abbiamo parlato fino adesso la condizione la condizione la condizione senza di quello il pane invece diventa un veleno perché non è vero che poi siamo in comunione col corpo di Cristo ma se siamo in comunione col corpo di Cristo allora questo pane diventa una benedizione e c'è un'esperienza particolare che noi facciamo oltre a questo quando noi celebramo la Santa Cena quindi è una manifesta comunione con Cristo una manifesta comunione con la Chiesa ma anche noi facciamo qualcosa di particolare annunciamo il ritorno di Gesù perché in verso 26 del capitolo 11 cosa è scritto? poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga allora questo viene annunciato finché il Signore tornerà sapete qual è il desiderio del Signore quando tornerà bere un bicchiere di vino con noi lo dice lui Matteo 26 29 vi dico che da questo momento mi astengo dal vino dal frutto della vigna però arriverà il giorno in cui io berrò di nuovo con voi e dove sarà questo? nel regno del Padre mio quindi si può bere nel regno del Padre? sì avremo un colpo glorificato si può mangiare non si può mangiare si può bere non si può bere avremo tante possibilità che oggi non abbiamo sicuramente non avremo né moglie né marito e saremo sicuramente tranquilli tutti quanti saremo come angeli del cielo quindi non ci sarà più questo ma avremo un tipo di comunione diversa non sappiamo qualcuno a volte vuole essere spiegato il fratello ma come facciamo a spiegare se non andiamo lì se non viene il regno di Dio nessuno può avere percezione esatta di quello che sarà quello che sicuramente noi dobbiamo fare dobbiamo stare attenti perché quando noi partecipiamo alla alla cena del Signore è un momento anche di consacrazione vedete significa anche questo significa che noi non possiamo bere due calici questo significa una dedicazione e una separazione da tutto quello che è il calice di questo mondo tutto quello che il mondo ci offre e tutto quello che è idolatria dobbiamo avere il coraggio di mettere fine a tutto quello che riguarda il passato della nostra vita infatti prima quali in si dice è scritto il calice della benedizione abbiamo già letto prima è la comunione col sangue il pane è la comunione col corpo di Cristo e poi il verso 18 dice guardate Israele secondo la carne quelli che mangiano i sacrifici non hanno forse comunione con l'altare che cosa sto dicendo che la carne è sacrificata agli idoli sia qualcosa che un idolo sia qualcosa perché molte persone anche quando celebrano queste festività dicono ma quello non è niente noi non ci crediamo a queste cose no non ci crediamo a tutte queste festività strane che abbiamo questi rituali a queste tradizioni che ancora ci portiamo sia dalla vecchia religione che dalla vecchia la vecchia cultura di questo mondo anche le stesse feste profane fra poco a Diva San Valentino anche qui pure tante volte ho detto e ho visto i fratelli i fidanzati cristiani che quasi quasi si stoltiscono tra i legati sveglia guardo San Valentino guardo San Valentino chi è l'autore dei fidanzamenti dell'amore è Gesù lui è però insomma ci stanno tante cose ma non solo questo le feste per i bambini le feste per i grandi le vecchie feste cattoliche insomma tutto quello che noi diciamo ma no quella è una cosa alla quale noi neanche ci crediamo sono lì soltanto per significare la mia presenza in realtà vedete perché la Santa Cena è consagrazione dice l'idolo è qualcosa no la carne sacrificata l'idolo è qualcosa no il verso 20 dice tutt'altro io dico addirittura che le carni che pagani sacrifichano qui dice le sacrifichano ai demoni e non a Dio ora io non voglio che abbiate comunione con i demoni questa è una parola pesante ma è una realtà spirituale ogni volta che noi pensiamo che non c'è niente di male se c'è qualcosa a casa consacrata no l'idolo è qualcosa no ma dietro all'idolo chi ci sta? ci stanno i demoni per cui noi partecipiamo alle feste dei demoni ecco perché poi possiamo pagarne un prezzo voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni oppure attiriamo la gelosia di Dio sulla nostra vita con tutti quelli effetti che abbiamo visto prima e poi concludiamo con questo passo Ebrei 10.29 che parla anche di santificazione quindi consacrazione io con la scena del Signore significa Signore solo il tuo calice solo il tuo calice solo la tua volontà solo in te la mia gioia solo tu sei la mia vita ma oltre a questo c'è Ebrei 10.29 che dice di quale di quale peggior castigo a vostro parere sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia vedete la grazia è equivocata e in molti casi la grazia è compresa è capito come qualcosa che ti permette di poter vivere nel peccato perché il Signore fa grazia e questo crea una tolleranza e un'autoindulgenza verso il peccato nella tua vita e la provoca anche nelle persone attorno a te per cui tu non guardi più persone avvertendoli di un pericolo ma rassicurandoli nella loro condizione ora quello che la Bibbia dice di quale peggior castigo qui sta parlando della legge della grazia e sta dicendo che quelli lì sotto la legge sono stati puniti severamente perché hanno trasgredito la legge di Mosè ma la grazia è una cosa che ci dà più possibilità e opportunità ma ci dà anche più responsabilità per cui è castigato maggiormente colui che sbaglia nella grazia di colui che ha sbagliato nella fede quando Gesù parlerà con i suoi contemporanei dirà guardate che voi sarete giudicate dai sodomiti Ninive vi giudicherà i sodomiti vi giudicheranno per cui quelle persone che erano sotto la legge e che non hanno la possibilità di essere raggiunti allora noi che abbiamo la grazia la rivelazione lo spirito santo la Bibbia la comunione se noi carpestiamo il figlio di Dio e se noi consideriamo profano il sangue del patto come se fosse un sangue qualunque o come se fosse un sangue uguale agli altri calici allora dice quale peggior castigo colui che avrà disprezzato lo spirito della grazia vedete proprio la grazia è quella che attira la condanna il disprezzo della grazia il frententimento della grazia la confusione sulla grazia la convinzione nostra sulla grazia è quella che ci può mettere in difficoltà seriamente che cosa significa tutto questo Gesù vi consiglio questo di andare nei Vangeli e di leggervi tutti i messaggi che Gesù ha predicato troverete indulgenza e misericordia di Gesù verso le persone che non lo conoscono la donna adulta la donna curva Zaccheo Matteo ma dovunque sia con i suoi e sia con i farisei il messaggio di Gesù è molto forte ai suoi stessi lui dice vegliate e pregate affinché quel giorno non vi prenda di sorpresa poi dice state attenti che se non perseverate o stile alla fine voi non sarete salvati poi dice molti sono i chiamati pochi sono gli eletti poi dice che larghe la via che porta alla perdizione è stretta la via che porta la salvezza e sono pochi quelli che la trovano la parola del Signore è una parola tremenda una parola che sicuramente ci responsabilizza non ci lascia solo in questo cammino ma il Signore ci aiuterà però noi la nostra parte la dobbiamo fare quindi non siamo autoindulgenti siamo attenti che il peccato rimane sempre il salario del peccato e la morte rimane sempre questo principio non è cambiato nulla e noi che abbiamo lo spirito della grazia siamo più responsabili di quelli che non conoscono il Signore che Dio ci aiuti domenica vogliamo celebrare una cena del Signore avendo questa speranza e soprattutto questo fondamento l'iddio della pace che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto di salire dei morti il grande pastore delle pecore il nostro Signore Gesù vi renda perfetti in ogni bene affinché facciate la sua volontà e opere in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo a Lui sia la gloria nei secoli dei secoli Amen e poi concludiamo con questo con questo passo di Ebrei 10-19 avendo dunque fratelli libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso la coltina vale a dire la sua carne e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio avviciniamoci con un cuore sincero e con piena certezza di fede avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura e manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare perché fedele è colui che ha fatto le promesse questa è l'opportunità per tutti quanti noi nessuno è perfetto stasera pentiamoci non è che noi possiamo dire nessuno è perfetto andiamoci da imperfetto nessuno è perfetto preghiamo tutti quanti e chiediamo perdono a Dio ma non è che possiamo pensare che il mal comune sia mezzo gaudio o perché tutti quanti siamo peccatori Dio chiude un occhio no Dio è santo e l'ira di Dio si è abbattuta sul suo figlio Gesù come ho detto più volte non ha portato sulla croce i nostri peccati ma i nostri peccati hanno portato Gesù sulla croce è un po' più pesante il nostro peccato quello che commettiamo quello che tante volte lo chiamiamo debolezza problemino problema quel peccato ha portato Gesù sulla croce Gesù è morto per questo ecco perché noi dobbiamo dire Signore perdonami aiutami non cerchiamo perfezione carnale non cerchiamo santificazione basandoci sulle nostre forze ma abbiamo lo spirito della grazia e lo spirito della grazia è quello che mi fa vedere Gesù mi fa vedere il suo sacrificio e mi aiuta a liberarmi dal peccato mi aiuta a dire e a capire delle cose che il Signore rivela alla nostra vita se noi camminiamo nelle sue vie che il Signore ci aiuti vogliamo celebrare domenica questa festa senza divisione senza divisione potendo dire ognuno di noi Signore ognuno esamini se stesso per che cosa voglio lavorare se c'è qualcuno che si trova in difficoltà con amore diciamo se continui così io faccio un passo indietro mi ritiro da te dimostriamo questo significa amare le persone e non lasciarle nei propri problemi se ci troviamo nelle difficoltà noi stessi facciamo in questo modo abbiamo misericordia per chi nell'ignoranza ha vissuto nel peccato chi convive chi sta nella situazione nell'ignoranza abbiamo misericordia e comprensione con tutti ma quando uno poi si vuole chiamare fratello rimanendo in quella condizione non va bene più se vuoi diventare fratello devi lasciare il peccato perché se no Dio non può benedire la vita tua amén vogliamo alzarci in piedi alleluia vogliamo chiedere al Signore già sperimentare questo esame personale esaminiamo noi stessi esaminiamo noi stessi alleluia quello che Dio ti chiede di avere più misericordia con gli altri di essere più spiegato con te stesso non giustificare nulla della tua vita e non giustificare altri perché devi giustificare qualcosa dentro di te questo è sbagliato questo è diabolico giustificare altri perché devi giustificare qualcosa dentro di te esamina te stesso e quando avrai esaminato te stesso rendendoti colpevole ma allo stesso tempo chiedendo perdono e sperimentando il perdono tu avrai misericordia per chiedere il peccato ma non giustificherai niente avrai parole sagge ma ferme avrai un atteggiamento misericordioso ma allo stesso tempo deciso affinché l'opera del Signore possa estendersi in ogni cuore e affinché la comunità la famiglia nella quale Dio ti ha chiamato sia una famiglia unita e benedetta attraverso l'edificazione che tu produci l'edificazione non è solo quella che si può produrre durante un culto ma l'edificazione che si può produrre tutti i giorni nella nostra nella nostra vita privata nella nostra vita relazionale Dio può usare la tua vita per essere una benedizione ma adesso esamina te stesso e considera che Dio ti ha dato cose speciali Egli ti ha dato il suo figlio non lo calpestare non calpestare il figlio di Dio non mettere sotto i piedi neanche la sua parola non pensare che il tuo pensiero sia più importante della parola del Signore e non pensare che la parola del Signore sia una cosa idealizzabile Dio non ci chiede niente di quello che noi non possiamo fare ma Dio ci chiede quello che possiamo fare Dio ti chiama a considerare il valore di questa famiglia che è la Chiesa quando avrai considerato bene questa famiglia tu avrai anche l'occhio e il cuore verso la famiglia universale mondiale alleluia e sarai unito a tutta la Chiesa ma inizia da qua inizia da qua alleluia c'è possibilità e opportunità stasera per la nostra vita di essere lavati dal sangue di Gesù perché non calpestiamo il figlio non rendiamo profano il sangue del patto e non disprezziamo lo spirito della grazia la grazia è questa che Dio mi fa capire oggi e non mi fa costare con superficialità non mi fa disprezzare la Chiesa non mi fa essere una parte della Chiesa ma farne parte totalmente della Chiesa alleluia questa sera ci sia possibilità per ognuno di poter dire Signore io ti amo io amo la Chiesa io voglio stare in comunione con Te Gesù ma voglio stare in comunione col corpo di Cristo alleluia per tutto quello che la Chiesa rappresenta dai ministeri ai doni ai talenti ai credenti alla fratellanza tutto quello che Dio ha costituito per la nostra vita alleluia lo spirito della grazia è che stasera il Signore ti vuole benedire perdonare e ti vuole aprire delle opportunità rinnovate alleluia vuole liberarti dalle illusioni delle convinzioni l'Apostolo Paolo disse questa non è la cena del Signore non ha niente a che fare noi invece vogliamo celebrare nella cena del Signore nel suo amore nell'unità alleluia gloria al Signore mettendo a posto la nostra vita esaminiamo i nostri cuori dove stiamo sbagliando come ci stiamo comportando come possiamo aggiustare alleluia cosa possiamo fare cosa siamo disponibili a fare fin dove noi possiamo fare senza andare in disaccordo con la parola di Dio senza andare in disaccordo con la parola di Dio alleluia anche questo è un atteggiamento di maturità di complicata applicazione ma di sicura benedizione e di effetto nel tempo che produce risultato alla gloria del Signore e alla salute della Chiesa alleluia Spirito di Dio investica i nostri cuori possiamo esaminare noi stessi Signore esaminare noi stessi alleluia gloria a Gesù di Dio di Dio Grazie.